Una coscienza che non abbia cuore simile o non è tale o è una cattiva coscienza. La parte pubblica e politica è costitutiva dell'io. Quando si verifica uno scollamento, sia una nevrosi o un io irregimentato, colluso, sordo alla voce di un altro uomo, si dà quindi luogo a una personalità instabile e nella sostanza a un uomo corrotto dallo Stato. Grazie